ciao amici oggi condivido con voi un trucchetto per dimagrire facile 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 mi piace si chiama dieta del piatto unico più che una dieta nel senso classico è un metodo di organizzare i pasti che li rende nutrienti e leggeri quindi adatti per dimagrire il regime alimentare è stato messo a punto dagli esperti di nutrizione di harvard e secondo i loro studi permette di perdere fino a 5 chili in 5 giorni se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video come funziona il piatto unico l'idea è semplice a pranzo e cena si mangia un piatto unico come fanno in oriente nel piatto si dividono le porzioni degli alimenti per avere sempre carboidrati proteine fibre e grassi buoni il bilanciamento varia da persona a persona ma in generale questo sistema permette di perdere peso in modo equilibrato senza scompensi e rischi così si evita anche l'effetto yo-yo e i chili persi non si riprendono vediamo come fare colazione iniziare la colazione con una tazza di tè verde stimolante e detox poi mangiare uno yogurt bianco senza zucchero di soia con frutti rossi sempre per fare detox fare il pieno di antiossidanti e sostenere il metabolismo spuntini come spuntini a metà mattina e metà pomeriggio si può bere un frullato preparato con mela cetrioli e zenzero drenante detox attiva metabolismo oppure mangiare un po di frutta secca per fare il pieno di grassi buoni omega 3 pranzo e cena a pranzo e cena si prepara il piatto unico diviso in quattro potete usare anche dei piatti con gli scomparti metà del piatto è riservata a frutta e verdura di stagione cotta o cruda l'altra metà del piatto va divisa tra carboidrati grassi e proteine come carboidrati cereali integrali pane pasta riso cereali in chicchi come proteine quelle magre carne bianca pesce uova legumi tofu seitan come grassi quelli buoni di origine vegetale come l'avocado ma non è una cosa complicata in realtà è facilissimo non bisogna pesare niente non ci sono menu rigidi o alimenti strani e costosi possiamo farla con quello che abbiamo in casa che siamo abituati a mangiare quindi il piatto unico è perfetto anche da portare al lavoro fuori casa e per chi non ha tempo per vedere tanti altri video sul dimagrimento naturale iscrivetevi al canale con un click così è facile e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto volete dimagrire in fretta per essere sicuri di ottenere i benefici della dieta del piatto unico il team di harvard consiglia di bere almeno due litri di acqua ogni giorno e ridurre o eliminare il consumo di alcolici sigarette carni rosse salumi formaggi e ovviamente snack e bibite industriali mangia sano e dimagrisci